Sparare che spunta non si spararono che i carretti fai, che significava? A scicli c'era la malizia e allora c'era il fuoco ufficiale quando c'era la carretta passavano il caricatore e allora aspettavano che era nascita, la mia nonna c'era lui in guardia una cuba e appena aveva risponduto, gli dicevano aspetta, aspetta che tu stavi sparando gli spavano, gli spavano, gli spavano e allora c'era il fuoco ufficiale e che si è abbattuta e ne si riuscì